è difficile descrivere quello che benedetta rossi ha visto nel suo giardino se non come una bellissima esplosione ne sono nate tantissime benedetta rossi è la nota food blogger di fatto in casa da benedetta e un personaggio che da tempo è considerato come un importante punto di riferimento per gli amanti del mondo dei fornelli visto che da casa sua benedetta rossi si ritrova spesso a spiegare i piatti che prepara a un pubblico virtuale che la segue con molta attenzione un pubblico molto vasto se pensiamo che solamente sui social benedetta rossi conta più di 15 000 follower oltre che molto affettuoso nei confronti della propria beniamina dato che è molto legato a lei non solo infatti osserva con attenzione tutto quello che fa ma allo stesso tempo è anche partecipe delle giornate che benedetta rossi vive dato che nel momento in cui ha la possibilità si ritrova a commentare ciò che benedetta rossi condivide sui propri social per aggiornarlo sulle proprie attività anche lei è molto legata al suo pubblico di conseguenza condivide molto della sua vita con i propri fan parla con loro e gli racconta ciò che le accade nel quotidiano accompagnando questi racconti a delle foto di recente però ne ha postate alcune di molto particolari quelle di un esplosione che c'è stata nel suo giardino chiaramente chiunque è rimasto sbalordito da questi scatti un esplosione di fiori senza vedere prima la foto chiunque potrebbe pensare a qualsiasi cosa leggendo la parola esplosione vogliamo rassicurarti dicendo che a benedetta rossi non è successo nulla e che sta benissimo semplicemente con l'arrivo della bella stagione nel suo giardino c'è stata una piccola esplosione di fiori ne sono sbocciati tantissimi e benedetta rossi ha voluto condividere quest'incredibile fioritura sui social con i propri seguaci che come lei sono rimasti sorpresi oltre che felici da quest'incredibile quantità di fiori una bellissima esplosione nel giardino di benedetta rossi guardate che esplosione di rose nel mio giardino ha scritto benedetta rossi sul proprio profilo instagram accompagnando questa frase ad alcune foto che mostrano la bellezza del suo giardino fiorito chiaramente vedendo questa incredibile quantità di fiori in tanti hanno commentato positivamente la cosa mostrando un certo stupore tra queste persone c'è anche lei che ha commentato il post con queste parole no vabbè una meraviglia benni hai le mani d'oro